...per Martina Crippa, 11 secondi, uscita della Battisodo, mismatch contro la Rez, ancora la Grudà fuori per la Filippi... ...Marcella! Non trova la prima vittoria in questa stagione di Eurolega, dovrà andare a cercare in Francia la settimana prossima, intanto Filippi... ...favorite, c'è una delle nostre giocatrici, anche qui, favorite, che è Jackie Gemelos, intanto parte subito avanti con il canetto di Filippi, schio, sicuramente batti in paglia... ...Chadri, Grudà, Battisodo, Grudà, veloce situazione di palla per Filippi, che realizza una parabola arcuata... ...la palla a Storn, difesi, cambi difensivi sui recuperi, la palla dentro per Grudà, Grudà, l'uno contro uno contro Chiesa, la palla, ribaltamento sull'altro posto per il tiro da tre punti di Marcella... ...da sotto di André, che però si prende anche la rimbalza, non resta in attacco schio... ...Filippi, al tiro da tre punti, allo scadale di 24, Filippi... ...André, consegna Battisodo, va in angolo per Filippi, che ci riprova da tre punti, e questa volta la mette Filippi... ...Scusate, con l'uscita da parte di Martina Cripp, alza uscita in punta della Lavender, che prova ad armare la Grudà, poi si mette in proprio e quindi scarica per la Filippi... ...e questa specialità della casa... ...Danko!